Ciao tigrotti, bentornati sul mio canale, io sono Yuriko Tiger e oggi farò una bellissima collaborazione insieme a Katie Cat una famosissima reporter, anche lei in realtà è straniera, è tedesca ma abita qua in Giappone gestisce un canale molto famoso chiamato Ask Japanese forse qualcuno di voi l'avrà già visto perché io lo condivido spesso e in realtà facciamo anche lo stesso lavoro, lavoriamo per Japan in Motion un programma televisivo giapponese dove presentiamo il Giappone e oggi vorremmo trattare dei temi che in realtà mi hanno chiesto in tante ovvero che cosa vorrei sapere prima di venire in Giappone quali sono le cose che tipo, ah chitte yokata e in questo video noi parleremo giapponese perché visto che il mio inglese fa cacare abbiamo deciso di parlare, normalmente io parlo praticamente sempre in giapponese quindi ricordatevi di premere i tre puntini per i sottotitoli intanto ecco la voi la magnifica catiquette ciao Caty! ciao! mi chiamo Caty Cat! piacere! piacere! davino ma anche se si vedi a venire in un'altra cosa che si vedi a venire? C'è! C'è un'altra cosa che si vedi a venire in un'altra cosa? Ci sono molto molto. Quindi, come viaggio di Kathe e di Kathe, 5 settimbi che ci sono le 5 settimbi che si vedi a venire. Ok, allora, Kathe è una cosa che si vedi a venire in un'altra cosa? Non si vedi a venire in un'altra cosa? Questo è stato fatto prima di essere in politica, ma non è stato giusto che voglia per il suo popolo. Ma c'era un po' che poi si ha detto che in Italia vediamo la tante stalinese. Un po' che ora è sicuro che ho a vedere il tuo cosso, ma anche così... Ma non è per esempio della tante stalinese che vende anche per il suo popolo per il un Tante stalinese. Ah, sicuramente. C'è un po' di due ragazzo, ma non è più facile, 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 ma non è più facile. Tanti, perché l'Italia si è molto piaccato, l'opportunità dell'italia è stata una storia molto d'unico, ma è una storia molto piccola, che sono molto piccola, molto piccolata, ed è un po' più piccolo, c'è un po' più piccolo è il tuo tempo, C'è fatto che mi è stata un'altra cosa più bella. Ha? Che ho! Ha? Ha? Ma che ho fatto, non so. Chiarò che sono inoltre. Non so, non so. Ma che ho vinto così non è arrivato. Ma che inoltre, non è tanto che il tante il tante il tante il tante il tante. Non è vero che il tante. Non è troppo bella. Mi ha sempre riuscita la mia conoscenza. Cosa è una scola, ma che ha detto che il tante il tante il tante il tante il tante. Non bisogna vedere la sua proposta. Non bisogna vedere la sua proposta, ma non bisogna vedere la sua proposta. L'Italia è la sua proposta. La sua proposta è più alta, ma la sua proposta è più alta. Tutti i bambini e i bambini hanno detto che si può fare la sua proposta. Cattolato. Non ha la sua proposta. E' L'Italia è stata l'occhi di l'occhio e poi c'era che i fanno venire e che sono davvero molto sexy perché è stato molto più perché è stato molto sexy ma ma è stato molto sexy ma è stato molto più e questo è stato un po' Ponte. E anche i molti italiani sono molto pescati. Ponte. Ma ora è molto pescato. Allora, come ho uscato, ma quando ho uscato, ho visto che ho guardato con il calcio, e molto parecchi qua il nostro auto con snow coca colo un'altra cosa come con i bontchiubon è con i bontchiubon i amici anche la mia i bonti oltre che sta starbando meno andrante a fare molto donne si svevo sentirsi ma per i tati Se l'elemento delo è molto più seczioso. E anche se non mi sono stati molto veloci. E anche se non è piuttosto in un'altra cosa. E così, non è vero. Se non è vero. Non è vero. Se non è vero. 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 ma bravi in concerti soltgi e non so far non ragazza o se non si anche senza late che si non so non anche nel scorso perchè mi sono piuttosto che vi exercisingia pero nel franzo che non la bravi quando ero in caizia la bravi durante più non così perché perché ma ecco Show tanto d'accordo però per l'occasio avanti Especialmente no ho nella vecchia, ma no ho la faccio la tante un가지 Zevo che se ne vederà mia canta anche ora! Sì, sono sì che si continuano! E' da davvero anche vera! La tante un po' di giallo con un giallo non è molto vero tässä? Sì, non è giallo! Ero e nei risultati! Cosa le persone sono molto più efficace, quindi quindi ci sono anche i nostri lavori anche i nostri lavori e che mi ricordano che sia molto meglio ma comunque che non ha una sorpresa! Ma un po' di più che i bici è molto più e che i bici ma che non troppo ma non è un po' difficile e molto più difficile Sì, è molto freddo perché sono molto freddo. La scatola è più facile, non? La scatola è un po' di più. Quindi, la prima volta che ho fatto in questo momento, quando ho piacciono, ho visto che ho fatto, è che il mio nome è il mio nome di Tokyo. Questo è il mio nome di Tokyo. Il mio nome è il mio nome di Tokyo. Il mio nome è il mio nome di Tokyo. Il mio nome è il mio nome di Japan. Il mio nome è il mio nome di Tokyo. e anche chi è giusto, chi è anche chi è giusto Allora, come Dizinei al anderen, che è oggi Tokyo round Welcome to Tokyo round È un entorno più interessante Ci sono sicuramente false, anche se non è vero 原 tuicono e nascite le stesse in Sainta e Anima sono a kyamata, non è vero e come il resto è un paolo con un paolo. Ma proprio, se anche se in Tokyo allora... Il mondo non è così, quindi era un paolo in un paolo per la CUNY, e come un paolo in Tokyo. E' un paolo per l'imagine che arrivo molto a trasferire. Ma un paolo in un paolo in un paolo, è solo Tokyo o anche in un paolo, ma un paolo in un paolo in un paolo. quindi la stessa è molto buona. Voi passare in l'anno in l'anno? Il fatto che c'è l'anno in l'anno in l'anno? L'anno in l'anno in l'anno in l'anno? E' un'altro! Deodorant! C'è l'anno in l'anno in l'anno! Non è che il deodorant! Non c'è nulla, non c'è nulla. Sì, 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 sì. piacciono anche si è visto che non è facile, però non è così. anche se non è una vera che non è così, non è così. Sì, non è così. non è così, non è così. Alla sotto le diodorante, anche se non è un shampoo, oltre piacere. Ah! Ah! Adesso ho fatto, ma anche se sono stati con la scuola, ma anche se si è molto strana. Ma il mio corpo è molto strano. E quindi, non è molto strano. Non è molto strano. Ma è molto strano, ma è molto strano. Ma è molto strano. Ma è molto strano. ma è molto strano. Quindi il shampoo è molto più forte, perché il mio lavoro è molto più forte. Ma ora il shampoo è LUSH? 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 Un´w...! Chemmeno diteliosi né? Ha Я buttato into me tweet una faccia! L invincible! Non siccome tutto è unico più puosito! Ma ragazzo è un altro momento để la sua Sì. Io ho sustentato lui in D多 wijze. Ma nel caso il reddito che i mondi, ha imparato la mensa del pezgo di colpo. La wingsa del pezgo di colpo non è stata già. Nido, considerate che iбonatori non sono mostrari. Per ultimo, non sono tutti i ghiati che i bambini di niente, però non è importante Adesso, perché i bambini hanno 8 forze degli ghi, i bambini hanno loro un po zooletto. Sì, sì? Sì? Sì, sì? Ulamassi? Mi amore di amore di amore di amore di una cosa, perché sono i vegani. Vigitali e io sono i vegani, ma è stricte, ma è stricte, ma è stricte. quindi non lo so farò non si può fare così come si è vegano, non si può fare più di tuli. Non è che non si può fare più di tuli. Non si può fare più di tuli. Vigono sono i sottotitoli di io sono molto sottotitoli, ma non sono molto sottotitoli. Per esempio, che non sono i sottotitoli. Mi ha fatto un amore. C'è il mio vigono non è così, non è ancora molto sottotitoli. Ma quando io ho amato, mi cagli che attraverà il cacchi. Un po' di cacchi che non si era così, ma non è venuta. Ma è venuta perché il suo piacinato, no è venuta per me. Damien si è piaciuto. Vigano e Vigetariani sono troppo fanno già accettare alla connessione della sua nonna. Io ho il nostro proprio tanti, terzo apprezzo a tutti i nostri canali, se passate alla qualità di ottenere i vostri canali, ma tutte�ili di ricerci, conoscenze a sovierci. A tono anche davvero. E' davvero begete l'ho. Mi è anche una ragazza che ha carico di amore. Sono sempre una banca di appartamento di alberga di resta di resta del resto. Alla pronti del resto del resto del resto del resto di resta. Mi ha detto che i nostri obiettivi sono sempre una banca. Però non è. Ma se è sempre una banca per farlo e il risultato da riscaldamento. Come un pozzo di riscaldamento. Si è una banca, hanno un pozzo di riscaldamento. Beh, è un pozzo. C'è quello che mi ha pensato, che prima di più, è molto importante. Ci sono davvero un'allergia che hanno bisogno di un'allergia. Perché? C'è un'allergia che non ha bisogno di un'allergia che non ha bisogno di un'allergia. C'è un'allergia che non ha bisogno di un'allergia che non ha bisogno di più. C'è un'allergia che non ha bisogno, quindi se tengono dei cose che sono sicurali. C'è un'allergia che vince che prenderà l'appare l'appare, quindi non c'è l'allergia che vorrei. Se fossi qui veniveremo e potessi fare l'appare a fare l'appare di oggi, perché la vita è stata fatta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!